Musica Oltre 200 aziende del distretto Fermano pronte a invadere la capitale della moda. Stiamo parlando del Micam, il principale salone internazionale di settore, in programma a Milano dal 3 al 6 marzo presso gli spazi espositivi di Rho. Tema portante dell'edizione 2013, gli imprenditori, il loro rapporto con i giovani e il futuro nonostante la crisi, il tutto in un'ottica di massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, come ci spiega il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista. Io credo che sia in questo momento fondamentale che siamo tutti un blocco, con le istituzioni, sia perché come Camera di Commercio siamo vicini non solo con la presenza, ma anche aiutando ad essere presenti quelle piccole aziende che diversamente probabilmente avrebbero anche qualche difficoltà in più. Secondo, insieme alla Confindustria, insieme ad altre associazioni, creare un polo di attenzione perché questa è una fiera internazionale, ma noi siamo delle Marche, noi siamo del distretto delle Marche, allora credo che porre l'accento sugli operatori, su un'area dove si identifica un territorio che ha tantissime qualità, oltre a quella di produrre calzature, ma anche quella di produrre altri prodotti di moda, come i cappelli, abbiamo delle aziende che fanno gioielli, abbiamo una realtà enogastronomica che è eccezionale, abbiamo una ristorazione, abbiamo un turismo, abbiamo una realtà che offre una possibilità di turismo e un'ospitalità che è unica. Ecco, allora noi in quella occasione vogliamo mettere questo insieme che fa sì che un territorio si propone naturalmente con la punta di diamante che è l'imprenditore calzaturiero e che nel mondo si sta facendo strada, anzi ha già fatto molta strada e ne farà ancora in quelle parti dove non siamo ancora presenti. Quest'anno oltre al MIGAM e a Milano c'è MIGAM e Shanghai e questo già è bello nel senso che è l'anci italiana che organizza una manifestazione internazionale, quindi porta questo know-how che abbiamo sulla manifestazione di Milano in una realtà come quella cinese che è di fondamentale importanza. A proposito di creare un polo, io credo che sia un polo di attenzione, come sistema anche di Union Camere saremo senz'altro presenti ma qui io devo lodare proprio Confindustria Fermo e direi Anci Nazionale per aver creato questa opportunità per i nostri imprenditori che peraltro sono già molto presenti nell'area asiatica ma essere riferimento primario come in quell'occasione senz'altro sarà motivo di ulteriore ampliamento e di sviluppo sul mercato cinese. E a proposito dell'avventura asiatica che attende le nostre imprese nel prossimo mese di aprile ci racconta come è stato possibile organizzare questo straordinario evento il presidente della sezione calzatulieri di Confindustria Fermo Arturo Venanzi. È stato fatto un lavoro certosino perché è molto difficile fare una fiera in Cina, questa è stata proprio una battaglia di cui siccome essendo io uno dei responsabili insieme al nostro presidente nazionale Cleto Sacripanti so il lavoro che c'è stato di ero per riuscire ad ottenere sia questo spazio espositivo molto bello al centro di Shanghai, molto suggestivo, dove appunto ci saranno degli stand diciamo al 90%, più o meno sono tutti quanti uguali con varie metrature da 12 fino a 100 metri quadri però sono degli stand di livello e magari in Cina non sono abituati a vedere queste manifestazioni e soprattutto non sono abituati a vedere prodotti medio-alti che saranno esposti. Quindi riteniamo che per essere questa prima manifestazione già averla, essere riusciti ad organizzarla sicuramente è già un successo. A questa fiera che è una fiera vorrei ricordare mondiale quindi ci sono non solo italiani, quindi ci sono anche brasiliani, spagnoli però diciamo l'80% sono italiani, 70%. In pratica su 160 aziende italiane ben 80 vengono dal nostro territorio. quindi dimostriamo proprio anche lì di essere una spina portante di tutto il movimento. Aziende fermane che non si lasciano intimidire dalla crisi e si propongono alla fiera internazionale della calzatura più importante al mondo anche grazie al fondamentale aiuto della collettiva voluta da Fermo Promuove per sostenere economicamente 13 piccole imprese di altissima qualità che da sole non avrebbero potuto affrontare i costi di partecipazione. Ai nostri microfoni il presidente di Fermo Promuove, Nazareno, dichiara. Presentiamo veramente una collettiva di aziende all'insegna della qualità del Made in Italy che hanno fatto sforzi notevoli anche economici per presentare le collezioni e che hanno una caratteristica importante, cioè aziende, la collettiva delle aziende sono circa 230 solo quelle del distretto Fermano, dicevo con griffe presenti in tutto il mondo e che hanno preparato collezioni che sono adatte per il consolidamento dei mercati tradizionali il nord Europa, quello russo dove noi vendiamo da tempo ma anche per aggredire i nuovi mercati e quando parlo di nuovi mercati intendo il mercato cinese, quegli emergenti, quello brasiliano, i paesi dell'ex Unione Sovietica come il Kazakistan, la Corea, India e quant'altro. L'altro aspetto che vorrei sottolineare, e noi dedicheremo parte dello spazio ospitality a questo, questa attenzione ai giovani che sono entrati nelle aziende e attraverso una formazione e una cultura che viene dalla scuola fin dalla scuola primaria saranno il nostro futuro e il nostro ricambio generazionale. Porteranno freschezza, novità, ma avranno sempre i papà e le mamme che garantiranno la qualità del prodotto. Uno sguardo al futuro oltre la crisi è un'edizione 2013 decisamente all'insegna dei giovani e dei giovanissimi, come ci raccontano il presidente della Camera di Commercio, Graziano Di Battista e la dirigente dell'Ipsia di Fermo, Stefania Scatasta. Abbiamo pensato un po' anche a un futuro più lontano e quindi a far sì che ci sia la presenza anche di giovani, di giovani anche delle scuole primarie che comincino a vivere questo ambiente della manifestazione internazionale, della manifestazione fieristica, cominciano a vivere anche quelle emozioni che si vivono in fiera, che raccontarle con termini è un conto, ma viverle direttamente invece è un'altra cosa, vedere quando c'è questo flusso negli stand, quando operatori rimangono meravigliati di fronte a un articolo che ha delle eccezionalità. Ecco, tutte queste cose debbono entrare a far parte del mondo dei nostri giovani perché io credo che devono tornare ad invogliarsi e devono tornare ad appassionarsi anche proprio nel fare questo lavoro e nell'essere attori principali per la nostra produzione, per la nostra commercializzazione e per proporci al mondo. Un progetto importante e innovativo perché è la prima volta che i ragazzi della scuola media vivono un'esperienza progettuale di questo tipo che vede l'appuntamento al MICAM come l'ultimo di una serie di momenti importanti che hanno visto i ragazzi incontrare gli imprenditori, conoscerli, andare a trovarli nelle loro aziende e quindi vedendoli in situazione, il MICAM sarà l'ultimo momento, estremamente interessante, lo aspettano infatti con molto interesse perché io credo che i ragazzi possano, soprattutto in questo momento in cui si orientano verso la scelta dell'istituto superiore, incominciare ad orientarsi appunto verso un mondo del lavoro che potrebbe essere importante e di assorbimento delle loro potenzialità.